Io di patatini, ne ho pregiate tante, gusti rotetti, fragrami, non ce la faccio a stare sempre, le ho provate tutte, americane, odesse, olandese, con la sorpresa, le mangiavo così senza tanti complimenti, anche tre alla volta, ma nessuno è come questa. Fidati di Udo che le ho provate tutte, amica Cip è la migliore. Grazie a tutti.